che piacciono più le donne bruttarelle si? è cambiato un po' quindi chi è bruttarelle non dico voi però può avere delle chance maggiori delle donne belle chi è? non ci sono? non ci sono, vabbè dai grande Paolo, di Paolo e Daniela grande orchestra mass Fabiani, chi mi presenta all'orchestra? Sabrina, ciao bellissima ciao bello, si è visto oggi come sono anche noi ci siamo adeguati bianco e nero tutti in lutto oggi tutti nero siamo, mamma mia 2 novembre dai Max, presentami l'orchestra allora, l'orchestra che si è rinnovata a parte i due che sono malati il sassofonista e il nostro fisarmonicista abbiamo al basso Mauro ciao Mauro bello, bello, bello bello colorato la bellissima la bellissima Manuela grande Manu grande voce e bella, bella fuori e dentro diciamolo eccolo qua c'è il sole abbiamo importato tiraviglio c'è il sole? c'è il sole? eh ma lui lui arriva da Miami direttamente da Miami ah, vabbè allora Gabriele Nelson ah, vabbè allora se arriva da Miami è consentito l'occhiare da sole perché lì c'è sempre caldo ci sono quelli costume c'è che ricordo è Miami Beach yes vabbè dai grande e poi Chi c'è lì? abbiamo il nostro batterista ormai da anni da tanti anni Domenico e poi lui in grande quello alto quello grosso quello che oramai anni e anni e anni che sempre con l'orchestra gira e rigira e rigira e rigira Max Fabiani grazie grazie e allora a proposito di gira e rigira non l'ho detto per caso gira e rigira Manuela tocca a te vieni qua a Bellatusa siamo in Lombardia se vuoi dire Bellatusa pronta gira e rigira Manuela e tutta l'orchestra Max Fabiani quando una donna incontra un uomo e si capisce che tra i due c'è affinità cosa succede come procede si parla un po' di tutto quanto un po' di niente gira e rigira si arriva al punto all'argomento che sta a cuore a tutti e due una frase una frase detta maliziosamente poi un'occhiata poi un bacio finalmente dove la novità in questa storia come una tiritera da mattina a sera si ripete a memoria quel che succede quel che succederà è una cosa seria viene l'amore che si parima con il cuore non eternità che si parla che si parla Gira e rigira, si arriva al punto, all'argomento che sta fuori a tutti e due Una frase detta maliziosamente, poi un'occhiata, poi un bacio finalmente Dov'è la novità in questa storia? Come una tirtera da mattina a sera si ripete a memoria Quel che succederà è una cosa seria, viene l'amore che fa rima con il cuore dall'eternità Dov'è la novità in questa storia? Come una tirtera da mattina a sera si ripete a memoria Quello che succederà è una cosa seria, viene l'amore che fa rima con il cuore dall'eternità Viene l'amore che fa rima con il cuore dall'eternità Che piazza!